Gira le pagine Cerca la data di pubblicazione Anno diciassettesimo era fascista 1939 Papà, hai mai ucciso in guerra? Sì, una volta Nell'incrocio fra una razza superiore, quale noi siamo, e una razza inferiore, quale sono i negri Non sono gli inferiori che si alzano a livello dei superiori, ma viceversa E allora sorge la necessità della più assoluta, della più feroce, della più implacabile separazione tra bianchi e negri Attilio non dimenticava il motivo per cui era andato in Africa da volontario Gabriele D'Annunzio aveva gridato L'Etiopia italiana da sempre E lui stava realizzando le parole del Vate Lo riempiva un orgoglio, una pienezza Mentre viaggiava a gambe ciondoloni sul retro dell'autocarro E' mancato il processo alle idee piuttosto che alle persone Mentre viaggiava a gambe ciondoloni sul retro dell'autocarro Mentre viaggiava a gambe ciondoloni sul retro dell'autocarro